L'ordinanza anti-accattonaggio funziona, così il sindaco Clemente Mastella conferma la decisione sul provvedimento emesso qualche giorno fa. Su questo tema si è riunito questa mattina in prefettura il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica. È ovvio che tutto questo può essere fatto non solo come forze di polizia ma anche o l'accompagnamento del giudizio popolare. Indubbiamente si è creata una forma massiccia di presenza e quindi anche di preoccupazione. Poi tra la sicurezza e la percezione dell'insicurezza bisogna garantire la sicurezza. Abbiamo registrato che quando è arrivata la prostituzione uno seri passi avanti sono stati fatti giù nella zona molto particolare del rione Ferrovie. Un'ordinanza rivolta a contrastare l'accattonaggio molesto che aveva fatto discutere ed era stata bollata come una guerra ai poveri, un provvedimento che aveva suscitato le proteste in particolare dei parcheggiatori abusivi. Quello non è che sono abusivi da oggi, sono abusivi da sempre. Quindi chi ha consentito questo ha fatto una cosa sbagliata. Ora tra quelli che hanno problemi e difficoltà lasceremo degli spazi liberi, si possono fare cooperative. Già qua abbiamo salvato la MTS e i 91 dipendenti e le famiglie che andavano via. Se la trotta bus non riesce a recuperare soldi che l'unica parte che li può recuperare, dei parcheggi, si chiude. Però non si può accettare una forma di ricatto, un'idea camorristica che pervada a volte all'interno della città da parte di queste persone. Grazie. Grazie. Grazie.